1977, quattro anni dopo la guerra del Kippur, Begin e Sadat si incontrano al Cairo. 800, Leone III incorona Carlo Magno imperatore. 1996, stretto di Sicilia, affonda una nave con oltre 400 migranti. Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia. Oggi è Natale, auguri di cuore.